Siamo qui con Eric, uno degli allenatori del nostro corso allenatore SLAMDUNK. Come sono andati i primi dieci giorni di corso, Eric? Come sono i primi dieci giorni di corso? Il training dei corso allenatori è stato molto bello. Abbiamo piaciuto, abbiamo aprendo molto. Abbiamo conosciuto come trattare i bambini. Anche noi, i nostri giocatori, siamo capiti a sapere cosa fare e cosa non fare. Ho detto che è stato divertente, vi è piaciuto tanto, hanno imparato tanto sia di tecnico sia come relazionarsi con i ragazzini e anche gli allenamenti sul campo li sono serviti tanto per migliorare. Che pensi di questo torneo? Gli ho chiesto se i ragazzini si divertano dal torneo? Gli bambini hanno avuto molto divertente, sono molto talenti, abbiamo alcune persone con più di training e potrebbero essere grandi nel sport. Abbiamo incontrato il SLAMDUNK di continuare a venire e a continuare a sponsorare e potrebbero poterli trainare per voi. Ha detto che i ragazzi sicuramente si divertano tanto, ce n'è qualcuno molto talentuoso e lui spera che questa SLAMDUNK Basketball Academy vada avanti per parecchio tempo e basta. Va benissimo, ti ringrazio. Grazie 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 Grazie